Buongiorno, mi chiamo Cristiana Bellodi. Dopo una vita spesa, girando per il mondo, facendo ricerche e anche un po' di collezionismo, sono arrivata a realizzare il mio grande progetto che è quella di creare una linea di eau de parfum che ho lanciato l'anno scorso proprio qui ad Exanse e a completamento del progetto sono arrivata alla creazione di una linea tutta dedicata al benessere e al corpo, biologica, data anche ai vegani, prodotti che contenessero all'interno i miei eau de parfum, quindi con fragranze veramente speciali e molto preziose. Oggi sono qui per lanciare questi nuovi prodotti dove potete vedere composti da sei eau de parfum, sei body lotion e sei shower gel e dei burri veramente speciali, anche questi tutti con ingredienti provenienti da coltivazioni biologiche e quindi anche questi adatti ai vegani assolutamente naturali con all'interno questi miei profumi che amo veramente molto. Coordinata alla linea dedicata al corpo c'è anche una linea ambiente con delle candele anch'esse con all'interno queste profumazioni che sono fatte con delle cere assolutamente vegetali, naturali, con un compound di cere formulate proprio dal nostro laboratorio e quindi assolutamente esclusive.